Ciao a tutti, mi sentite? Ciao Silvia, ciao. Silvia è il manager e consulente su finanziamenti, organizzazione e gestione della tecnologia. Quindi ci aspettiamo da lei che la sua performance Zoom sia ineccepibile. Insomma. Silvia, benvenuta qui al fronte. Ciao a tutti. Le vedete le slide? Perché non so se riesco a condividerle correttamente. Vediamo, dovresti avere... Vedono. Dovresti avere nella parte in basso di... Eh, l'ho fatto, però mi dice qualcosa di strano e che non riesce a farlo. Cosa ti chiede il permesso per condividere? Allora, sì, ok. Io dico, consenti. Scusate, ma... Se proprio non riusciamo a condividere le slide, le tieni sotto tu e... Eccole. Eccole. Questo è l'ultimo. Perfetto, questo è l'ultima. Cominciamo dalla fine. Torna la prima e... Ok. Bene. Grazie mille. Mi piace che tu ci parli di networking, che è un tema che naturalmente a noi del freelance camp interessa tantissimo. Infatti. Allora, intanto per chi non mi conosce, anche se sono qui dell'area di Roma e ci siamo visti spesse volte, io vorrei, se passiamo alla seconda slide, presentarmi brevemente, anche se l'ha già fatto Alessandra, anche perché mi sono dato una medaglia, il quarto freelance camp di Roma al quale partecipo, stavolta, ahimè, online, ma insomma ecco, e quindi mi sono anche premiata. Come detto, mi occupo di business writing, di finanza agevolata, progetti innovativi e anche product management che discende un po' dai progetti innovativi. Grazie, se potete passare all'altra slide, la faccio corta. Questa era un po' la mia premessa, che il freelance camp ci può portare lontano e sono felice di aver letto che Fitbit la pensa un pochino in questo modo e quindi evidenzia il rapporto che ci può essere, che ci sarà tra i freelance e anche le organizzazioni più strutturate, con collaborazioni più o meno lunghe, più o meno stabili. Io sono convinta che questa rete, anche per la maniera in cui è nata, può dare un grosso valore aggiunto proprio a un discorso di questo genere, cioè anche, e lo vedremo meglio nelle slide successive, alla collaborazione con aziende di tipo strutturato, magari dotandosi di qualche strumento anche umano in più. Adesso è un periodo di crisi e quindi mi sono chiesta come possiamo fare a trovare più lavoro anche quando un po' di clienti spariscono, ci sono difficoltà nei pagamenti, eccetera, eccetera. Non tutte le aree risentono allo stesso modo della crisi, ci sono alcune aree che anche in questo periodo stanno lavorando molto, quelle legate alla salute, quelle legate alla logistica, ci sono tanti campi, quelle legate alle commerce. Quindi in realtà diciamo che le risorse economiche si sono spostate più che esaurite. Posso avere l'altra slide per favore? Grazie mille. Allora, come ci possiamo aiutare? Questa è la ricerca che abbiamo a disposizione fino adesso, accompagnata da alcune schede che noi compiliamo quando ci iscriviamo, che diciamo in maniera molto sintetica e schematica raccontano un po' quella che è la nostra esperienza e grazie al freelance camp che ha creato questa cosa bellissima. Però diciamo che è molto schematica e che va bene per un database, ma forse è un po' troppo schematica, per fare delle ricerche un pochino più raffinate e trovare magari appunto un partner, un consulente di un tipo magari con un'esperienza specifica. Possiamo passare all'altra slide per favore? Ecco, anche perché le interazioni che possiamo avere tra di noi sono di vario tipo, quelle standard che abbiamo visto anche adesso e che già stanno avvenendo, sono i supporti per picchi di lavoro, incarichi per attività a corpo, quindi da svolgere in autonomia, consulenze, formazione, supporto per eventi, come abbiamo visto anche Free Health Camp ha fatto questo, ha scelto all'interno del suo bacino di consulenti alcuni per supporto per gli eventi, ma ci sono anche altre collaborazioni possibili economicamente interessanti, per esempio per bandi di gara e di finanziamento fornire il proprio CV, fornire eventualmente anche un preventivo laddove è sempre richiesto, può poi portarci a lavorare, a collaborare con chi ci ha coinvolto in caso da giudicazione. Stessa cosa più o meno anche per i progetti innovativi, fornire preventivi, fornire CV anche in questi contesti e anche pareri professionali, magari se non eccessivamente impegnativi, può portare poi ad essere coinvolti in successive attività. In tutti i casi questo ci dà visibilità, passaparola, possibili ulteriori ingaggi, magari non è passato quel progetto ma io ho apprezzato quella persona e quindi la richiamo per fare ulteriori cose. Il rafforzamento e aumento del network personale che è molto importante e ho messo a posto i puntini puntini perché secondo me non ho neanche esaurito ancora tutte le possibilità. Possiamo passare alla successiva, grazie. Quello che rimane fuori adesso e che è riservato più alla conoscenza personale che noi facciamo in maniera diretta, almeno dal mio punto di vista, sono queste caratteristiche, le famose soft skills di cui tutti siamo dotati ma che difficilmente riusciamo a tirar fuori in situazioni non proprio dirette. Altri interessi che abbiamo e che magari per esempio per i progetti innovativi possono essere interessanti anche se non stanno nel CV, non sono direttamente riportabili su una scheda e altre esperienze che non stanno sul CV o sulla scheda e che magari possono riguardare proprio settori completamente avulsi è il nostro network personale. Mi è successo proprio con un progetto recentemente di attingere al network personale di alcuni miei contatti che non era scritto da nessuna parte e quindi diciamo questa è un'informazione che secondo me non riusciamo a tracciare ma ci potrebbe consentire di fare migliori guadagni. Scusatevi, vi chiedo di nuovo il passaggio all'altra slide, perdonatemi per la difficoltà. Allora come possiamo fare a far emergere tutte queste caratteristiche affinché queste ci portino un maggiore lavoro? Io ho provato a pensare a qualcosa, cioè queste che vedete qui, fare dei video, mettere da qualche parte dei video in cui parliamo di alcuni aspetti specifici, fare magari dei podcast oppure fare delle call specifiche organizzate da freelance camp relativamente a una tematica specifica, allora chi è interessato risponde e a quel punto si racconta in maniera un pochino più dettagliata. Passaparola, qui sta funzionando secondo me, ma lo possiamo incentivare, sottogruppi per argomenti, aree geografiche, aree tematiche, skill eccetera che magari periodicamente o una tantum si incontrano e si approfondiscono o spazi dedicati anche a delle ricerche, delle richieste un pochino un po' fuori dagli schemi che potrebbero anche trasformarsi in delle call. Condividere qualche best practice lo stiamo già facendo diciamo in maniera periodica, ma magari le potremmo raccogliere in maniera più strutturata e poi, non so, lascio a voi, questo più che andare in formazioni vuole essere uno stimolo a pensare a come possiamo migliorare la nostra interazione. Una cosa un po' più estrema, ma sicuramente interessante potrebbe anche essere quella di pensare a dei commerciali che in qualche maniera strutturano un gruppo e lo propongono o meglio ancora, quando ricevono una richiesta, vanno a pescare nel freelance camp le persone che possono soddisfare questa richiesta. Mi sembra una cosa, può sembrare una cosa un po' veneristica, ma in realtà in alcuni contesti già succede ed è praticabile. Quindi questo è un po' la mia, più che lo spazio per le domande vostre, questo è uno spazio per una domanda mia, come possiamo migliorare ancora e gestire meglio questa crisi insieme attraverso gli strumenti che abbiamo o che potremmo avere. Io ho concluso, vi ringrazio molto per l'attenzione e mi scuso tantissimo per l'inconveniente delle slide. Io ti ringrazio Silvia, non devi assolutamente scusarti di nulla. Ti ringrazio anche per tutte le idee che hai regalato, che ci hai dato, una vera e propria checklist di cose che in parte già facciamo, ma potremmo fare in modo diverso, potremmo fare meglio e anche cose che magari non ci sono ancora venute in mente, quindi ci ragioniamo insieme. Tra l'altro dopo il prossimo talk ci sarà anche un momento di networking su Zoom fra noi partecipanti, quindi le cose che hai detto rientrano anche nel primo tema di discussione che io proporrò. Quindi ti ringrazio di nuovo. Grazie a voi. Alla prossima occasione in cui spero ci vedremo di persona. Bene, grazie Silvia.